Una protezione contro le piene. Sette sindaci vicentini chiedono alla regione Veneto di realizzare un nuovo bacino di laminazione nella Val d'Astico per tenere sotto controllo il livello del fiume Tesina. Un'opera simile a quanto è stato realizzato a Caldonio sul Bacchiglione che ha scongiurato che Vicenza finisse nuovamente sott'acqua. Promotore dell'iniziativa il comune di Torre di Quartesolo che ha ricevuto l'appoggio dei comuni di Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto e Bolzano Vicentino. La pronta risposta dei colleghi è significativa nel senso che condividiamo un problema, condividiamo una preoccupazione e la preoccupazione è sempre in aumento visto che i fenomeni atmosferici sono sempre più violenti e improvvisi. A far paura in questo momento sono le abbondanti nevicate che se dovessero risentire improvvisamente di un rialzo termico inevitabilmente farebbero scendere a valle un'imponente massa d'acqua. Realizzare un bacino di raccolta Astrico-Tesina è indispensabile come indispensabile l'azione di coordinamento dell'iniziativa della provincia. Veniamo da un momento difficile di qualche settimana fa dovuto all'alluvione in particolare che ha colpito l'area est della città quindi Torre di Quartesolo e 7K e ci siamo trovati per sostenere una richiesta importante alla regione Veneto cioè quella di un nuovo bacino di laminazione sull'area del Tesina perché è un'area che va sempre in sofferenza su quelle grandi diciamo così perturbazioni e quindi le grandi piogge. È arrivato il momento di ragionare come è stato fatto in maniera brillante positiva abbiamo visto anche gli effetti dell'ultima alluvione per il bacino di Caldogno un nuovo bacino di laminazione che possa mettere in sicurezza tutta l'area est.